Gentili telespettatori, un cordiale saluto. Manteniamo in primo piano le vicende storiche di questi giorni. Mi riferisco soprattutto alla rinuncia di Benedetto XVI, ma anche al conclave che sta per eleggere il suo successore. È storia veramente con la S maiuscola. Ne parliamo con Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, laico impegnato come suol dirsi sia sul fronte ecclesiale che su quello sociale e politico, ma anche lettore attento dei fatti d'attualità nella sua veste di editorialista di Avvenire e di Toscana Oggi. Dunque, Franco, innanzitutto, visto che ti ho definito lettore attento, qual è la tua lettura della rinuncia di Benedetto XVI? A me ha colto con sentimenti di grandissima gioia, immediata, prima ancora che pensata. Devo dire che ho visto in questo gesto una sorpresa, come si ama dire, la sorpresa proprio dello spirito che volge il cuore degli uomini verso gesti che noi non riusciamo neppure a ipotizzare. Ma è un gesto non nel senso della debolezza, come è stato minimizzato e interpretato, ma a me pare un gesto della forza. È il gesto di un governo che anche esprime una profezia verso il futuro e indica una strada. A me è sembrato, dopo una riflessione ancora più attenta, che fossimo all'alba dei frutti maturi del concilio. Noi sappiamo che i concili portano immediati frutti. Questi frutti sono anche un po' come l'acqua che si trivella dalla roccia. All'inizio la prima acqua è gorgoglia, ma porta con sé detriti e anche delle impurità. Oggi forse siamo di fronte a un frutto maturo del concilio. Senti, io credo che insieme a tanti plausi che ci sono stati, però non possiamo negare, interpretando una parte anche delle reazioni al mondo cattolico, che ci sia stato. Anche chi non ha letto in maniera troppo positiva questa scelta. Tu pensi che sia accettabile questa interpretazione, che sia in qualche modo comprensibile oppure è totalmente sbagliata? È del tutto comprensibile in ordine allo smarrimento di un gesto inaudito in duemila anni di storia, salvo il precedente che sappiamo, ma questo mi pare che abbia tutt'altro significato. Quindi quando i vertici, i punti di grande riferimento per le coscienze ci sorprendono, anche ci smarriscono, questo è evidente. Però a me pare che questo segno inauguri una dimensione nuova della Chiesa. È stato ridotto nella sua interpretazione, è stato anche secolarizzato. A me pare che alla maniera di Benedetto XVI, che è il Papa della Razio, questo grande carisma, offre una visione luminosa della Chiesa e del Ministero Petrino, che lo libera. Direi da un punto di vista lo rende più forte, liberandolo dalla iper-sacralizzazione a cui un po' dal Vaticano, primo in poi, si era tesi. Quindi mi pare che nell'anno della fede, Benedetto XVI ci fa un gran servizio, perché libera la fede, ponendo le questioni ultime al cuore della vita cristiana e rimettendo le vicende del governo della Chiesa sul piano a cui devono stare. Tu dici di fatto che la Chiesa non sarà più come prima, qualcosa cambierà profondamente dopo questo gesto. Ecco, questo a tuo giudizio condizionerà in qualche modo i cardinali elettori in conclave? Mi auguro che li condizioni profondamente. Il gesto del Papa è un gesto da accogliere nelle coscienze, prima di tutto, e non lo vedo come un gesto della politica, ma un gesto della libertà della coscienza. Io non ho condiviso i giudizi, a me sembra un po' moralistici, del il Papa che scende dalla croce. Per me è il Papa che è stato sulla croce come è stato sulla croce Giovanni Paolo II, a meno che non si voglia identificare l'amore verso Cristo crocifisso con un modo solo di esprimerlo. Due grandi papi, due carismi diversi, due vissuti della coscienza diversa, un unico amore per Cristo. Quindi è qui che si situa e l'indicazione ai cardinali mi pare che sia luminosa perché relativizza ciò che non deve essere assoluto e ripone il tema della fede, della coscienza e della testimonianza di fronte al mondo come questo sì il fatto assoluto. Voi in questi giorni come Rondine siete chiamati a fare da osservatorio esterno proprio al conclave, nel senso che TV2000 vi ha coinvolto in una bella iniziativa con i collegamenti quotidiani con Rondine, cittadella della pace che è qui alle porte di Arezzo e seguirete in qualche modo ovviamente all'esterno perché in conclave non c'è nessuno e non trapela, non dovrebbe trapelare niente. Come sarà questo vostro seguire il conclave in diretta diciamo in qualche modo? Sì, questa possibilità che ci è stata richiesta e offerta per noi è straordinaria, è un grande privilegio. Lo vorremmo condividere con tutto lo spazio della nostra chiesa locale, della nostra città perché è veramente una bella opportunità. Rondine ha sempre voluto bene al Papa in una maniera non confessionale, qui non parlo io come persona e come credente cattolico, ma l'esperienza di Rondine è a partire da un'esperienza chiaramente cristiana e cattolica è la creazione di uno spazio aperto per tutti, quindi è la scommessa forte della convivenza, dove le religioni hanno un grandissimo ruolo e sono tutte stimate in un dialogo interreligioso. Allora seguire il Papa dalle nuove generazioni, i leader di domani, i musulmani, gli ebrei, gli hindù, i non credenti e anche gli altri cristiani appartenenti a altre confessioni come gli armeni o gli ortodossi, credo che è dare una coralità al ministero di Pietro che travalica i confini della chiesa. Nel momento dello smarrimento Pietro è il riferimento anche per persone che non condividono la stessa fede. Abbiamo bisogno più che mai di parole forti e di riferimenti certi. Ecco, questo è molto bello quello che dici, l'autorità morale del Papa rimane tutta integra, quando si parla di avvenimenti storici si intende anche storici per tutti, non solo per i credenti. Tornando un attimo al conclave, ovviamente noi non facciamo toto Papa perché non è assolutamente il nostro mestiere, non ci interessa, però ci potrebbe essere un condizionamento nel senso che, visto che Benedetto ha dichiarato esplicitamente di rinunciare anche per l'affaticamento dovuto all'età, magari i cardinali siano spinti a scegliere uno molto più giovane, questo potrebbe condizionarli. E l'altra questione che ti porrei, siamo pronti ad un Papa non europeo? Credo che la coscienza della Chiesa e del mondo sia cresciuta enormemente in quest'ultimo tempo e la de-italianizzazione, de-europeizzazione credo che sia un fatto compiuto, quindi non ci sono primati di ordine geopolitico. Io credo che la grande forza e quello che i cardinali penso sicuramente in coscienza si domanderanno di fronte a Dio e nella loro collegialità è il servizio alla Chiesa e al mondo, quindi chi è la persona che più di ogni altro interpreta l'annuncio certo che Dio è misericordia, che Dio ferisce le ferite degli uomini e delle donne del nostro tempo, che Dio ci attende domani nel futuro e che non è una nostalgia del passato. In questo senso credo che noi lo sappiamo, non dobbiamo neanche vedere i limiti dei cardinali. Sappiamo che un Papa può venire anche fuori dal collegio cardinalizio in epoca di sorprese, perché no? E poi quello che sarà sicuro è che ci vorrà un ampio consenso in quanto Benedetto XVI ha ripristinato la regola dei due terzi, per cui in ogni caso su 115 cardinali elettori ce ne vorranno, se non erro, 77 circa. Quindi ci vorrà un bel consenso intorno a questa figura e quindi forse questo lo rafforza anche se avesse bisogno di questo. Vorrei chiudere a questa parte dedicata alla Papa, al conclave, fatti che ovviamente in questi giorni seguiremo con grande attenzione. Non è per passare dal sacro al profano, i livelli sono completamente diversi, però è in questo momento, Franco, stiamo vivendo anche una situazione particolare a livello italiano, una situazione difficile dal punto di vista politico. Qual è la tua lettura anche in questo caso di questi fatti? Il momento è certamente molto delicato per la vicenda dell'Italia e anche dell'Europa, perché l'Italia è posizionata fortemente nell'Europa. C'è stato un messaggio che lo ascoltano anche i sordi e lo vedono anche i ciechi, era anche ascoltabile precedentemente alle elezioni, che una pagina oscura della classe dirigente, della vita politica del nostro Paese doveva essere voltata assolutamente, velocemente e con segni chiari, comprensibili da tutti i cittadini. Quindi siamo a questo punto, cioè se le forze in campo riusciranno a esprimere dei gesti chiari e incontrovertibili che facciano a dire ai cittadini sì, forse si sta veramente cambiando pagina. Se questo non avviene la crisi sarà lunga e la crisi potrà portare anche effetti molto nefasti. La tua previsione nell'immediato, dal punto proprio di vista concreto, arriveremo a un governo, che tipo di governo, con quale stabilità? L'aggettivo stabilità non è di questo periodo, lo rimanderei a tempi migliori. L'instabilità è importante che non raggiunga la fibrillazione, perché vorrebbe dire che il sistema allora complessivamente sta scricchiolando un po' troppo. D'altra parte si giocano delle forze formidabili. L'arrivo del Movimento 5 Stelle, io direi è un movimento bianco, l'ho definito, cioè è un movimento che può assumere tutti i colori. Il bianco ha tutti i colori, quindi può assumere tutti i colori. Vivendo giorno per giorno lo scopriamo e lo comprendiamo. La politica non ha bisogno dei tempi della sociologia per studiare i fenomeni, ha bisogno di governare e di dare risposte oggi ai problemi che ci chiedono da tanto tempo tutti i cittadini italiani. Rammentavi il Movimento 5 Stelle che indubbiamente è il grande fenomeno di questo momento. Ma come si può interpretare questo movimento? È veramente un movimento che raccoglie un voto di protesta oppure c'è qualcosa di più e di diverso? Teniamo anche conto che fra l'altro, credo che l'abbiamo raccolto un po' tutti anche noi in giro, che anche parte del mondo cattolico non può negare di aver guardato al Movimento 5 Stelle. Non l'ha solo guardato, lo ha votato. Sappiamo anche dall'analisi dei voti chi lo ha votato, come i flussi cominciano a essere conosciuti, quindi gran parte del mondo cattolico ha pensato di dare questo segnale che certamente nel panorama politico era uno dei segnali forti che si potevano dare. Come tutte le questioni nate così, esplose all'improvviso, portano con sé ampi margini di ambiguità che soltanto nello sviluppo potranno essere chiariti. C'è anche stato un altro fenomeno che è quello della lista civica di Mario Monti, è un altro elemento di novità, anche di questo andando avanti capiremo qual è la sua portata e la sua eventuale collocazione nel panorama politico. Torno un attimo sul Movimento 5 Stelle e poi magari ritorniamo anche sulla lista Monti. Il discorso riferito a Grillo personalmente, questa idea di nascondersi, addirittura di mascherarsi, qualcuno lo ha interpretato come una sorta di attacco vero e proprio alla democrazia. Secondo te è così oppure c'è un qualcosa, persino un business dietro a questa giacca a vento particolare? C'è un'ottima strategia di comunicazione per tenere la scena, lo spettacolo deve tenere la scena, lo spettacolo deve evitare che il video spettatore schiacci il pulsante e vada su un altro canale, lo spettacolo ha delle reggi interne, la politica negli ultimi vent'anni è sempre più diventata spettacolo, le personalità forti che lo interpretano vengono anche dal mondo dello spettacolo, anche comico, se veniva dallo spettacolo drammatico forse avrebbe avuto altri esiti, gli italiani sono in un video non sanno mai se fare un discorso serio o una farsa, tra la farsa e il discorso serio in questa ambiguità si sta andando avanti, però poi bisogna sciogliere questa riserva e bisogna restituire alla politica il suo carattere di rigore e di serietà e saper ridere abbondantemente con gran buon umore in altre sedi. Diciamo che alla fine Grillo si è dimostrato effettivamente un grande comunicatore, senza andare in televisione è sempre stato in televisione, però accennavi prima al discorso della lista Monti, non si può negare che soprattutto in un certo momento il mondo cattolico possa aver guardato a questa possibilità, però poi qualcosa sia un po' come dire perso un po' per strada, non so forse anche Monti è salito sì in politica, ma forse è un po' sceso al piano degli altri, è entrata una campagna elettorale che alla fine è stata caratterizzata forse da scontri più diretti che non da proposte vere e proprie. Beh è il rischio che correva l'esperienza di Monti e la persona di Mario Monti, di questo gli dobbiamo dare anche atto perché c'è stato un periodo in cui veniva chiamato a fare il bagno nella politica, se voleva dire qualcosa agli italiani, il bagno è stato fatto. Mi pare che come si diceva di Grillo, altro è una proposta politica, altro è l'efficacia della sua comunicazione. Grillo è un grandissimo comunicatore, direi che forse non si può dire altrettanto della campagna elettorale di scelta civica, ha avuto degli evidenti difetti dovuti, forse se gli vogliamo essere benevoli, dare l'attenuante dei 50 giorni in cui è stata scelta e organizzata, quindi delle incoerenze che si sono viste. Io sono d'accordo con quella onestà di Matteo Renzi quando dice che non sono gli italiani che non ci hanno capito, ma è chi si vuole spiegare che non si sa spiegare. Questo è un adagio sempre per tutti, che vale anche al di là della politica, per la Chiesa, per un prete che fa un'omelia. Il problema non è della gente che non capisce, il problema è di trovare i mezzi idonei per chi ha qualcosa da dire, perché possa raggiungere la mente, i cuori, la pancia della gente. Ecco, diciamo che effettivamente chi meglio ha saputo comunicare trovando i meccanismi della comunicazione è andato meglio alla fine e se vogliamo anche lo stesso Berlusconi ha riconquistato posizione grazie ad una capacità comunicativa e forse è mancata ad altri, forse allo stesso Bersani è mancata tanto questa capacità comunicativa. Assolutamente sì, perché abbiamo visto per esempio nel momento delle primarie del PD è stato uno spettacolo di viva democrazia che ha riportato la gente a appassionarsi al tema della politica, a schierarsi, a uscire, a volere iscriversi, a votare. Quindi quando anche c'è una capacità di comunicazione, in questo caso credo che Renzi è stato l'elemento formidabile sul piano della comunicazione, tutto si risveglia. Berlusconi che era dato per semi morto ha riconquistato dei risultati apprezzabilissimi dimostrando che è il grande comunicatore dello scenario della politica. Il tema sul quale dobbiamo riflettere è se la politica è solo spiegabile nei termini della televisione o dei suoi mezzi affini e quindi secondo delle ragioni di spettacolo, oppure la politica va anche spiegata in maniera tale che si susciti dibattito vero e non finto, perché noi sappiamo che dentro questo mezzo da cui ora stiamo parlando le parole, i gesti e i comportamenti sempre assumono un significato diverso dagli incontri diretti, dagli incontri reali che sono gli spazi che non possiamo mai dimenticare per la vita seria e autentica della politica. Facevi riferimento alle primarie, non è che ad esempio l'EPD abbia esaurito tutta la sua forza lì, cioè che tutto l'impegno sia stato concentrato in quella fase e poi praticamente c'è stata una sorta di allentare la tensione e quindi piano piano andare a calare. Poi forse anche questa sicurezza, sempre manifestata, di una vittoria sicura credo abbia condizionato molto. Ma in psicologia ha sempre più probabilità di vincere chi a un certo punto si mette una volontà di rincorrere di chi si crede già arrivato. Il già arrivato si siede e c'è stato oggettivamente un momento dove quantomeno il messaggio era quello di che stiamo parlando, ormai abbiamo già vinto. Questo è penalizzante per chi si pone mentalmente dentro questo atteggiamento. C'è anche da dire che lo sforzo delle primarie è stato entusiasmante, quindi raggiungere un picco ancora più alto è oggettivamente difficile. Le primarie sono un meccanismo tutto da oliare, da capire. Il centro-destra ci stava provando, poi l'arrivo di nuovo di Berlusconi sulla scena ha inibito il tema delle primarie nell'ambito del centro-destra. Sarebbe stato molto interessante. Penso e mi auguro che sia solo un rinvio di tempi, perché un'area politico-culturale di quel genere si dovrà dotare di quei mezzi che sono i mezzi ormai abbastanza convincenti, perché le persone promuovano un dibattito che appassiona la gente e che non la lascia sola o passiva di fronte alla televisione. Le primarie sono indubbiamente auspicabili per tutti, perché sono effettivamente un momento di democrazia partecipata. Abbiamo l'ultimo minuto. Ti chiedo una valutazione su Renzi. Può essere davvero il futuro per quella coalizione politica, ovviamente? Ma le previsioni non piace mai a me farle, perché sa un po' di indovini. Bisogna stare ai fatti. È uno dei talenti della politica italiana in questo momento. È una delle risorse. Nei momenti di emergenza i popoli intelligenti usano tutte le risorse. Da qui poi a trovare le modalità non lo so. Ma mettere risorse, dico Matteo Renzi, dico Mario Monti, metterle in soffitta, in cantina o in naftalina, in un momento di azione urgente, intelligente, di prospettiva nazionale e internazionale, sarebbe uno scempio delle nostre energie migliori. In ogni caso, come dicevi all'inizio, la politica deve fare un salto di qualità. Questo non c'è dubbio. I cittadini devono tornare ad essere partecipi. Bisogna lavorare per il bene comune, che poi è la cosa fondamentale. Questione urgente, questione urgente. Ringraziamo Franco Vaccari, Presidente di Rondine Cittadella della Pace. Ricordiamo anche che in questi giorni appunto Rondine è presente in diretta su TV 2000 per seguire passo passo il conclave dal quale uscirà il successore di Benedetto XVI. Grazie a tutti voi per l'ascolto e come sempre appuntamento ai prossimi in primo piano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.